Ciao e benvenuto, in questa sessione, questo mese ti parlerò di, in buona sostanza, di coriacità, ossia dell'insieme di due forze, secondo me, secondo il mio punto di vista. Due forze che ci danno appunto questa coriacità, questa capacità di sopravvivere e di riuscire a trarre il massimo dalle situazioni e ovviamente arrivare poi ai nostri risultati. Per spiegarti queste due forze appunto che ci danno, ripeto, questa forza interiore, questa coriacità, vorrei raccontarti di una cosa che mi è capitata qualche tempo fa nella casa vecchia dove abitavo. Nel balcone di questa casa, tra due mattonelle, un giorno, mi ricordo in primavera, vidi spuntare un ciuffetto d'erba e mi fermai lì per qualche istante a contemplare questa cosa abbastanza rara e strana, se ci pensi, perché com'è possibile che su un balcone, in mezzo a due piastrelle, possa nascere dell'erba? E come avrà fatto? Dove ha trovato il pertugio per riuscire? E come si è riuscita a nutrire? Questo non lo so, sinceramente. La cosa che mi ha fatto riflettere, che ho indagato minimamente, da cui poi sono partiti una serie di pensieri e che poi mi portano oggi qua a parlarti di coriacità, è a che vedere con proprio questo, con la forza che in qualche modo ha manifestato, ha usato quell'essere vivente, quel filo d'erba, per riuscire a trovare il modo di sopravvivere e di trarre il massimo del nutrimento anche laddove era veramente minimo, quasi al limite, al di sotto di quello che era per lui indispensabile alla sopravvivenza. Ecco, quando accadono cose così, quasi magiche, miracolose della serie, no, non è possibile, una cosa così non potrebbe mai accadere, è ovvio che siamo di fronte ad una situazione molto rara, molto strana. Ecco, la coriacità, per quanto mi riguarda, è ciò che dà forza, in quel caso, a quel filo d'erba di sopravvivere e di riuscire a trarre il massimo da quello che l'ambiente in quella circostanza era in grado di offrirle. Bene, usciamo dalla metafora di quel filo d'erba e arriviamo alla nostra vita. Ecco, io penso che ci siano delle volte in cui l'ambiente è in grado di darci poco, di darci il minimo che ci serve per riuscire comunque a creare un qualche cosa di magico, qualche cosa di miracoloso, quasi, e saper trarre il massimo da una situazione anche così limite, così difficile, ci rende coriacei, ci rende capaci di saper portare a casa un risultato anche quando le circostanze direbbero il contrario, direbbero che questo non è possibile. Voglio riportarlo alla vita reale, professionale e personale di ognuno di noi, perché in tanti anni di lavoro nel coaching, nell'ambito dello sviluppo personale, del business, dello sport, mi sono reso conto che le persone coriace sono persone che tendenzialmente riescono ad ottenere successo, riescono a portare a casa i risultati che vogliono. Perché? Perché in effetti permette loro di riuscire a vincere le avversità, di riuscire a sopravvivere, di riuscire ad essere più forti, soprattutto nei momenti appunto critici e più importanti. Questo fa la differenza, nel senso che si dice non nello sport, in discesa tutti i santi aiutano, in discesa siamo tutti veloci ad andare in bicicletta, ma è quando la strada si mette in salita che allora quelli veramente forti, quelli veramente allenati, mi viene da dire, quelli pronti e preparati riescono a staccare il gruppo, riescono a fare la differenza rispetto alle altre persone. È proprio nel momento della difficoltà. Ecco allora, che cosa ci permette di diventare coriace? Sono due forze, due cose che noi dobbiamo in ogni modo allenare dentro di noi per poter dire no problem, perché quando ci sarà la discesa sarò veloce come tutti gli altri, saprò sicuramente avvantaggiarmene, ma soprattutto quando le cose si metteranno difficili e in pochi riusciranno a proseguire, bene, io sarò uno di quei pochi. Sono due forze, dicevo. La prima, la numero uno, è la capacità di resistere, la nostra resistenza. Resistere a che cosa? Resistere alle sollecitazioni, resistere alla fatica, resistere al dolore alle volte, resistere alla rinuncia, quando tutto attorno a noi sembra invitarci, con le buone o con le cattive, a mollare, a cadere, a non farcela e noi invece resistiamo. La resistenza alla fatica, ad esempio, per molti atleti è fondamentale nella fase di allenamento. Se tu hai i primi dolori, hai il primo affaticamento, rinunci, molli, è chiaro che non potrai mai eccellere e ambire a delle situazioni di privilegio, di eccellenza appunto. Quindi noi abbiamo bisogno di allenare la nostra capacità di resistenza. Ecco, prova a immaginare, metaforicamente, che qualcuno voglia farti cadere, quindi desistere e tu resisti, resisti alle spinte, resisti agli strattoni, resisti agli sgambetti, non ci molli, no? Come si suol dire. Ecco, questa fisicamente rappresenta la nostra capacità di resistenza, ma la resistenza di cui io parlo non è solo quella fisica, è una resistenza su tre aree, quella fisica, quella mentale e quella emotiva. Cioè, no, abbiamo bisogno di resistere fisicamente, perché? Perché se non ce la facciamo che siamo stanchi, non ce la facciamo perché abbiamo i dolori, perché abbiamo poca energia. È chiaro che faremo poco e nel momento della difficoltà ci verranno a mancare quelle energie. La resistenza mentale, è la capacità di non farsi distrarre, la capacità di rimanere focalizzati, la capacità di rimanere convinti, concentrati in qualche cosa. E la resistenza invece emotiva è la capacità di non andare, di non farsi sopraffarre dalle emozioni. Quindi la paura, quindi il dubbio, quindi il disagio, l'incertezza, no? Ma di rimanere solido anche, o solida anche a livello emotivo. Quindi abbiamo bisogno di essere persone resistenti. E insieme alla resistenza la seconda forza che dobbiamo assolutamente allenare è la resilienza. La resilienza è un termine che viene mutuato oggi dalla psicologia dal mondo della fisica, che appunto in ambito psicologico descrive la capacità che un individuo ha di, mettiamola così, di sapersi risollevare dopo una caduta. Mettiamo che noi siamo stati resistenti, abbiamo resistito fino all'ultimo e poi bam, uno strattone ci butta a terra. Bene, a questo punto entra in gioco la resilienza, ossia la nostra capacità di saperci rialzare e riprendere il cammino. Ci sono persone molto resistenti, ok? Quindi che resistono agli urti, ma poi quando non ce la fanno più e crollano non hanno la forza di rialzarsi. La batossa è stata troppo forte, hanno resistito così tanto e ci hanno creduto fino all'ultimo che poi quando non ce l'hanno fatta questa sconfitta è stata troppo forte per loro. Allora stentano a tirarsi su. È chiaro che in questo caso abbiamo ovviamente grande capacità di resistenza, ma poca capacità di saper superare le sconfitte. La resistenza è proprio la capacità di sapersi, mettiamola così, leccare le ferite, riordinarsi dopo una sconfitta, riordinarsi dopo una battuta d'arresto, dopo essere caduti e poi riproporsi in piedi, ma attenti, non riproporsi in piedi e basta, riproporsi in piedi, tornare verso l'obiettivo e magari perché no, tornare con più forza di prima, tornare con più carica, con più convincimento, con addirittura maggiore volontà e motivazione nel voler ottenere quello che si stava ovviamente cercando di raggiungere. Questa è la resilienza. Nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo dello sport, un po' in tutti i campi, le persone che sono riuscite a raggiungere elevati standard di risultati e di eccellenza sono persone che si sono dovute rialzare tantissime volte nella vita, che hanno subito tante sconfitte, che hanno avuto tante battute d'arresto. Mi viene da pensare, e sono un fan della Apple, mi viene da pensare a Steve Jobs quando in qualche maniera lo estromisero dall'azienda e lo cacciarono fuori. Lui che l'aveva fondata, lui che l'aveva creata, eppure non era più padrone della propria azienda, pensate che battuta d'arresto e quanto fu doloroso emotivamente e soprattutto psicologicamente per lui, però fu così forte che quando si risollevò, creò la Pixar e si ripropose nel business creando delle aziende che poi gli permisero di ritornare a cavallo e alla guida della propria azienda. Ecco, la resilienza come la resistenza ha a che vedere con quelle tre aree di cui ti parlavo prima. È resilienza fisica, la capacità di saper recuperare da uno sforzo fisico, da una battuta d'arresto, quindi da una malattia, da un infortunio, dalla stanchezza, quindi sapersi riposare. È resilienza mentale, quindi la capacità di dopo che qualcosa ti ha sconvolto mentalmente, che ha fatto crollare delle tue convinzioni, saperle ricostruire. Dopo che ti ha distratto, ah non ho resistito alla distrazione, però poi riprendere l'attenzione e rifocalizzare verso l'obiettivo. Ed è resilienza emotiva. Dopo che qualcosa non hai resistito, ti ha turbato, ti ha sconvolto l'emotività, saper interrompere quel modulo negativo e riproporre uno stato interiore molto forte. Ecco, resistenza e resilienza ci danno coriacità, capacità di saper sfruttare al meglio tutte le opportunità dell'ambiente intorno a noi e poter sopravvivere nei momenti di difficoltà, che sappiamo essere normalmente quelli che sono più critici e quelli che determinano poi se in effetti noi sul lungo otterremo successo e felicità oppure no. Ti invito, vi invito pertanto questo mese a fare attenzione a questo, alla vostra resistenza, alla vostra resilienza e dovrete allenarle, come si allena? Attraverso la forza interiore. Cercate di resistere con la vostra salute, alimentandovi bene, muovendovi, seguendo il programma che vi stiamo proponendo, il coaching programma ad esempio per la salute, riuscite ad essere più resistenti e più capaci a recuperare fisicamente e mentalmente uguale, seguendo le varie risorse che vi proponiamo qua, che ti proponiamo qua, hai la possibilità di allenare la tua capacità mentale, la PNL, le varie tecniche che ti insegniamo per riuscire a rimanere concentrato, convinto, focalizzato, concentrato, concentrato o convinto. È uguale a livello emotivo, tutte le cose che ti stiamo passando come informazioni servono per irrobustire la tua capacità emotiva di resistere e di sapere riproporre in te lo stato interiore giusto. Questo mese concentrati nel diventare una persona davvero coriacea.